Ciao, ti do il benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Voltime per quanto riguarda l'euro-dollaro. Come possiamo vedere dal grafico, l'euro-dollaro sta seguendo perfettamente la previsione ciclica come se non fosse influenzato o non sia stato influenzato dalle porcherie perché quelle sono state effettuate dalle banche centrali in primis e soprattutto la Federal Reserve l'iniezione di miliardi e miliardi e miliardi nel sistema per salvaguardare o salvare le banche regionali. Io non mi tolgo della testa che sia stata una manovra totalmente evoluta da un lato per rendere sempre più incredibilmente potenti le grandi banche americane quindi le grandi banche e soprattutto per giustificare una nuova iniezione di liquidità che se non avrebbe visto letteralmente i mercati abitarsi su se stessi a causa di inflazione altissima, di tassi molto alti, un'economia a rallentamento invece assistiamo a, e stiamo assistendo in questo caso sui mercati azionari sugli indici soprattutto, a un rialzo totalmente ingiustificato. L'euro al momento sembra fregarsene, meno male, e quindi come normalmente accade seguire quelle che sono le previsioni dettate dell'analisi ciclica. Come sempre diamo prima un'occhiata al trend di fondo quindi vado a togliere cliccando sul pannellino i cicli più piccoli lasciando soltanto i cicli dal 36 mesi fino al 20 settimane per poter evidenziare quello che è un trend di fondo. Ricordo per chi eventualmente, anzi, sì, più che ricordo informo chi stesse guardando proprio una volta una mia analisi e se soprattutto nulla sapesse dell'analisi ciclica che una tendenza di fondo generata dei cicli più grandi ok, man mano che andiamo a ridurre, quindi a inserire dei cicli più piccoli la risultante della sinusoide che noi vediamo diventa sempre più nervosa andando a evidenziare quelle che sono gli swing. Quando vogliamo sapere quello che sarà il trend nel futuro quindi non quello in atto ma quello nel futuro andiamo a togliere i cicli più piccoli quindi rendiamo una sinusoide più morbida in questo caso diventa molto più facile riuscire a vedere questo quindi riuscire a vedere che la tendenza di fondo per quanto riguarda questi cicli quindi parliamo di una componente ciclica che è importante da un 36 mesi fino a un 20 settimane è ribassista quindi andando poi successivamente ad aggiungere i cicli più piccoli nel mio caso un 80 giorni e un 40 giorni riusciamo anche a evidenziare quello che è l'andamento degli swing che il mercato dovrebbe fare chiaramente all'interno di un trend di fondo quindi questi sono gli swing per quanto riguarda un ciclo a 40 giorni possiamo anche andare ad aggiungere in realtà il ciclo a 20 giorni e quindi avere una componente swing la vediamo molto più nervosa che rende un po' più difficile la lettura al mercato una delle caratteristiche dell'analisi ciclica è che i cicli che lavoriamo devono essere ben visibili nel momento in cui andando ad aggiungere determinati cicli non vediamo una componente di facile individuazione significa che non c'è dominanza di quel ciclo lì e quindi conviene elevarlo dalla propria analisi ecco perché ho creato e strutturato il mio indicatore per l'analisi ciclica è totalmente modulabile gli aggancio li fa da solo il calcolo dei minimi li fa da solo però noi possiamo selezionare i cicli che vogliamo e quindi andare letteralmente a capire qual è la componente che più si è adatta al mercato in un preciso momento questo permette di avere una precisione maggiore per quanto riguarda l'analisi quindi possiamo andare letteralmente a togliere e aggiungere cicli per riuscire a identificare ad avere una componente previsionale migliore quindi proprio basta andare a selezionare tutti i vari cicli per rendere il tutto il più preciso possibile e quindi avere una ragionevole sicurezza e un'analisi corretta noi siamo su un picco, lo vediamo per quanto riguarda un ciclo da 40 giorni e ricordo anche questa informazione il ciclo più piccolo che noi vediamo selezionato lo possiamo evidenziare sullo sinusoide soprattutto se sia all'inizio guardando quali sono i minimi più vicini e i massimi più vicini quindi per quanto riguarda un ciclo a 40 giorni è evidente che abbiamo questi due massimi quindi questo massimo e questo massimo per quanto riguarda sempre un ciclo a 40 giorni per quanto riguarda i minimi questo minimo e questo minimo oppure questo minimo e questo minimo e questo minimo tutti i minimi più adiacenti equivalgono sempre al ciclo più piccolo che noi evidenziamo su il pannellino quindi è molto facile identificare che quello che stiamo guardando è un massimo in un ciclo a 40 giorni e il minimo in un ciclo a 40 giorni lo andiamo a dilatare e a spostare in data 13 luglio la mia analisi ciclica non prevede un aggiustamento dei cicli già finiti perché è troppo facile così ma prevede come normale che sia man mano che vengono confermati i cicli in essere che ci sia un ricalcolo per il futuro quindi abbiamo una dilatazione una contrazione di quello che sarà la previsione di un minimo e di un massimo tenendo anche presente che nella colonna di destra dove viene scritto varianza percentuale varsta per varianza abbiamo la tolleranza impostata nell'indicatore per la ricerca di un minimo che cosa vuol dire? Vuol dire che un ciclo in questo caso da 40 giorni scusate tolgo la sonoria un ciclo da 40 giorni con una varianza impostata del 40% innanzitutto dal 91 ad oggi ha una durata media di 39 giorni quindi qui parliamo di una statistica lunghissima per quanto riguarda l'euro e dollaro e la varianza del 40% significa che se abbiamo un ciclo da 40 il 40% sono 16 giorni quindi significa che possiamo avere un ciclo che dura 56 giorni o 40-16 che ne dura 24 di giorni questo è importante perché all'interno di questa componente l'indicatore andrà a cercare secondo l'algoritmo che ho creato quello che sarà il minimo corretto all'interno di una componente statistica quindi in questo momento il prossimo minimo per quanto riguarda un ciclo da 40 giorni è previsto per il 13 di luglio e siamo arrivati con la sua fase di rialzo prevista abbondantemente nelle analisi passate vicino alla resistenza dove potremmo andare a cercare delle indicazioni ribassiste io preferisco sempre che si venga a creare una situazione del genere quindi un ingresso all'interno dell'area in questo caso di resistenza e poi un ribasso anche se in realtà quello che vediamo andiamo ad aumentare un po' lo zoom anche se quello che vediamo questa doge è indubbiamente un segnale di possibile inversione e una chiusura della candela odierna al di sotto della candela stessa precedente potrebbe già generare un ingresso short con ovviamente uno stop loss posizionato sui massimi quindi parliamo sopra ad area 1.10.95 prima di determinare e andare a mettere i puntini sullo I una breve presentazione di chi sono sono Paolo Peisino sono un trader dal 2007 quindi sono 15 primavera 16 anzi con quest'anno che sono sui mercati gli ultimi 11 anni a questo punto non più 10 li ho passati a studiare l'analisi ciclica tutta diciamo la mia crescita come trader tutti gli errori infatti errori che ancora commetto ovviamente sono un essere umano non sono un robot da Lamborghini e li puoi trovare e vedere sul mio sito il tradingpertutti.com ti invito a visitare troverai due semplici sezioni una formativa e una per quanto riguarda i servizi per quanto riguarda la formazione non sono un multiesperto sono un profondo un grandissimo conoscitore dell'analisi ciclica della mia analisi ciclica tanto di aver creato ovviamente un programma formativo dove potrai imparare a lavorare con il mio modello dell'analisi ciclica coestrapolato dagli studi base agli studi originali di Earth che è stato il precursore colui che ha portato l'analisi ciclica sui mercati finanziari io chiaramente l'ho rielaborata per i mercati di oggi ho apportato alcune modifiche alla composizione dei cicli e molte modifiche per quanto riguarda il tracciamento delle trendline cicliche e man mano che l'indicatore lo andrò a sviluppare perché ho anche creato un indicatore proprietario che è quello che mi vedi utilizzare nelle mie analisi quindi andrò a implementare sia il modello originale di Earth che quello che invece sono le modifiche che ho apportato e che io ritengo essere corrette per il mercato di oggi abbinato al corso di analisi ciclica avrai all'interno anche il corso di analisi volumetrica quindi ho inserito tutto quanto insieme per poter lavorare quindi in maniera corretta con i volumi quindi dare importanza reale ai volumi cose che in realtà non sono in grado di fare e mi riferisco alla predizione di che cosa farà il mercato il volume è un indicatore di momentum utilizzato su un massimo o un minimo ciclo che diventa veramente fenomenale nel capire se veramente su un livello sta prendendo dominanza un compratore o un venditore o meglio la parte dei compratori invece che la parte dei venditori cose che con i volumi sappiamo sempre solo a posteriori mai cioè sì mai prima ma sempre dopo abbinato invece a un massimo o un minimo ciclo possiamo sapere prima se quello che vediamo è probabilmente ciò che avverrà sui mercati avrai anche accesso a un anno intero di indicatori volt perché avrai un anno intero di licenze di indicatore due ore di coaching individuali direttamente con me e un anno intero di canale telegram dell'indicatore morale della favola e avrai un risparmio incredibile per quanto riguarda l'acquisto di questo di questi pacchetti perché l'indicatore non lo paghi le due ore di coaching con me non le paghi un anno intero di canale di canale voltime non lo paghi andrai a pagare solo ed esclusivamente all'interno delle diciamo della cifra il corso praticamente tutto il resto è totalmente in regalo in regalo in realtà ho profitto ovviamente nel vendere la formazione ma non ho volutamente creato delle cifre enormi perché deve essere alla portata di tutti indicatore voltan che potrai noleggiare anche a prescindere dal corso e avrai accesso ovviamente alla durata che sceglierai per il noleggio e anche al canale telegram dedicato all'indicatore c'è uno scambio di idee e si mettono le quali operatività ci sono dei giorni in cui è abbastanza animato dei giorni in cui è meno animato dipende anche molto dal mercato e dalle occasioni che il mercato va a consentire ai traders tieni presente che la maggior parte degli abbonati fanno trading come secondo lavoro quindi sono traders multi day e multi day non è vero quello che si vede in giro non ci sono decine di operazioni al giorno in multi day in multi day parliamo di qualche operazione qualche occasione al mese che un mercato ti può andare a generare segnali se invece serve ricerca di segnali tra dei sugli indici e anche di un servizio di analisi volumetrica e ciclica sugli indici siamo nel posto giusto e andiamo a vedere adesso i risultati dopo averti invitato a unirti al mio canale telegram risultati per il mese di giugno siamo ancora leggermente in negativo siamo a 86 punti di perdita sul nasdaq e a più 20 invece per quanto riguarda il dax 20 punti li ho chiusi oggi oggi è America chiusa quindi al primo segnale e dubbio volumetrico essendo vicini comunque a un livello per me è importante che era il livello di target io ho deciso di chiudere poi ho sentito suonare gli allarmi probabilmente sarebbe andato anche a target ma per 10 punti non mi sono giocato un profitto con un break even ho preferito portare a casa se stai guardando per la prima volta un video di trading se hai già visto altri video di trading il trading è questo vuol dire avere anche dei momenti in cui c'è difficoltà nell'operatività non credere alle Lamborghini ai Porsche a 10.000 euro al giorno in 10 punti e location palesemente affittate per fare dei video il trader non è per forza in giacca e cravata e papillon un trader che lavora a casa molto probabilmente lavora come me in maglietta e pantaloncini corti ok a casa mia non sto con la giacca e la cravata e tutto gelato oppure con gli occhiali da sole oppure che ne so perché sono a casa mia d'estate sono in tutta per ecco freddo cioè d'inverno sono in tutta per ecco freddo d'estate sono in maniche corte per ecco caldo anche sul climatizzatore acceso quindi questo è il trading e quindi vuol dire che nel trading in realtà si subiscono anche delle perdite mi raccomando non credere alle cazzate madornali che purtroppo ahimè governano i social e il web da ormai diversi anni torniamo a noi aspettiamo che chiuda la candela guardiamo se abbiamo qualche livello da poter andare a tracciare per poter entrare ai mercati innanzitutto vado anche a evidenziare è andata una scemenza volevo cliccare sulla lavagna cerchiamo di capire se abbiamo qualche livello da poter utilizzare per i nostri ingressi livelli di non è nunca niente l'unica area che ho disponibile è questa qui che è anche così tutto bloccato stupido un primo livello ovviamente di supporto per quanto riguarda l'euro dollaro sarà innanzitutto questa trendline ciclica che è una trendline del ciclo 80 giorni che è questa qui no era un 40 giorni non mi ricordo neanche più era una trendline del ciclo 20 giorni chiaramente non la considero più e non parlerò nel corso una trendline statistica ciclica però rimane una trendline che ha un valore nettamente superiore a quello che sei abituato a tracciare ossia discrezionale perché ha un suo diciamo una sua nascita formazione da un punto di vista statistico sui minimi dei cicli quindi un'area di target potrà essere su euro dollar 107.35 più o meno 106.65 e la trendline in questo caso rimarrà un supporto chiaramente dinamico perché in funzione di dove sarà dove eventualmente sarà colpita la potremmo andare a utilizzare come livello di uscita del nostro trade minimo del ciclo massimo del ciclo a 20 giorni è spostato un po' più avanti in data 22 giugno 2023 invece la data del ciclo a 40 giorni era prevista per il 16 giugno 2023 cosa vuol dire? vuol dire che in questa fascia temporale in questa fascia ok noi abbiamo no ho sbagliato scusami in questa fascia perché la data è questa qui noi abbiamo la probabilità che si venga a verificare in massimo per controllare da un ciclo da 20 giorni e da 40 giorni quindi andiamo a cercare solo degli short lasciando completamente stare quelle che sono eventuali continuazioni razziste dovremo perdere il treno in quel caso questo è tutto ti auguro una buona giornata e ti do appuntamento alle prossime analisi di oggi ciao 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 ciao